buongiorno a tutti grazie intanto per essere intervenuti grazie per questa collaborazione oggi appunto in occasione del 29esimo anniversario delle stragi di via d'amelio e di capaci abbiamo ricevuto dalla fondazione falcone e il lenzuolo appunto che abbiamo esposto al quartiere questa mattina ci sono io vice presidente del quartiere silvia manfredini ma vi porta anche i saluti del nostro presidente di quartiere vincenzo naldi da alcuni anni il nostro quartiere borgoponi gallereno ha diciamo costruito un progetto che si chiama i cantieri della legalità e sta cercando modi azioni e progettualità diciamo per far sì che la legalità diventi questione di ordinare amministrazione e che possa davvero diffondersi e dilagare all'interno del nostro territorio come molti di voi forse sapranno nell'altra sede del quartiere di via battindarno già da molti anni la sede diciamo la sala principale è intitolata falcone borsellino e allora anche quest'anno non potevamo mancare in questo importante anniversario di ricordare questi due giudici che tanto hanno fatto per il nostro paese loro si sono battuti e purtroppo sono stati uccisi perché hanno cercato di combattere la mafia sappiamo che anche i nostri territori non sono territori in cui la mafia non opera anzi purtroppo da noi operano tanti diversi tipi di mafie e quindi anche questa iniziativa insieme alle iniziative che stiamo portando avanti con le scuole del nostro territorio e con le tante associazioni che in questi anni hanno deciso di aderire ai cantieri della legalità speriamo di riuscire anche noi nel nostro piccolo a contrastarla e combatterla oltre a lenzuola appunto aderiamo diciamo con davvero onore al progetto spazi capaci comunità capaci lanciato dalla fondazione falcone insieme all'arma dei carabinieri che sta partendo proprio in questi giorni a palermo e quindi auspichiamo che anche nei prossimi giorni con la compagnia di borgo panigale gli altri carabinieri anche dell'arma di bologna possiamo davvero portare avanti i progetti in questo senso grazie davvero a tutti per l'attenzione per la presenza